Bene, ben ritrovati al nostro corso sugli script bash, lezione numero 4 e parliamo delle tuple o in inglese array. Le tuple sono delle variabili multiple che lavorano con un indice per scrivere o leggere una specifica posizione nella memoria del nostro pc che così per nostra convenzione e comodità chiameremo cella. Chiamiamo cella perché queste tuple hanno appunto un indice, quindi una variabile può contenere con quello stesso nome più l'indice più valori e vediamo adesso rapidamente con un esempio cosa intendo perché magari detta così sembra più complicata di quella che non sia. Vediamo subito un esempio, chiaramente, che è più facile che capire con un esempio, non esiste, quindi creiamo la nostra tupla della settimana con i 7 giorni, quindi 7 celle, quello che ho appena detto, una cella per ogni giorno della settimana, ecco qua, la sintassi è semplicemente questa, settimana di indice 1 lunedì, 2 martedì, bla 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 fino a 7 domenica e come sempre qui sulla sinistra riporto il nostro codice, quindi se anche voi seguite con il codice sott'occhio lo trovate nel file corso script bash parte 4 ovviamente. Le tuple, allora come al solito si inizia col bin bash, col clear per pulire il nostro terminale così non facciamo confusione, quindi ci concentriamo sul nostro script e le tuple e differenti modi per definirla. La settimana per esempio, semplicemente si scrive settimana, parentesi quadra, quindi non rotonda, anche qui è una decisione sintattica di chi ha creato la bash, dobbiamo solo prendere atto che si fa così, non c'è nessun motivo particolare, non parentesi rotondi ma parentesi quadre, quindi settimana di 1 lunedì, settimana di 2 martedì, settimana di 3 mercoledì, e domenica, ecco naturalmente non c'era nessuna necessità di mettere questa frase, domenica e domenica, però l'ho messo per quale motivo? Per mostrarvi che laddove il contenuto alfanumerico, quindi di stringa di caratteri, contenga degli spazi come qui, quindi domenica, spazio, righetta, spazio, il, spazio, meritato riposo, bisogna includere tutto il contenuto, quindi il valore della cella numero 7 della variabile tupla settimana, dice o bisogna includere il contenuto fra virgolette doppie, quindi si apre la virgoletta doppia, si scrive il contenuto e si chiude, ecco vedete che avrete già notato nella lezione precedente però le stringhe di caratteri, cioè le frasi o le parole o le lettere messe fra virgolette doppie diventano rosa e questa sta a indicare appunto del testo, un valore testuale, quindi doppia virgoletta aperta e chiusa e l'interno diventa rosa. Sopra non l'ho messo, non le ho messi fra virgolette doppie perché è una parola sola, senza spazi in mezzo, quindi non è necessario metterli. Diciamo che per coerenza del codice sarebbe meglio sempre usarlo, se si sa che si sta segnando un valore stringa, un valore alfanumerico è meglio metterli, quindi bisognerebbe mettere tutto così. Ho voluto volutamente tralasciare le virgolette per mostrarvi la differenza, cioè perché qui posso tralasciare le virgolette doppie e qui no, proprio per questa ragione degli spazi che qui non ci sono, però ecco diciamo che è buona regola una volta che si impara un modo nella sintassi, usarlo sempre anche se qui sembrerebbero superflue le virgolette, qui diciamo didatticamente ho voluto tralasciarle ma nel vostro caso direi magari quando avete a che fare con dei testi mettete sempre fa virgolette doppie, che è anche più facile anche a occhio capirlo visto che diventa rosa è facile vedere che è un valore che stiamo assegnando una variabile, ecco. Quindi a parte vedete questa differenza che ho voluto evidenziare, vedete che ho voluto creare una tupla, un array in inglese chiamata opportunamente settimana con il suo indice dall'1 al 7 con i suoi valori dei giorni della settimana e questo è un modo per caricare le tuple, ci sono anche altri modi, ecco vedete qui dico ci sono altri modi di definire una tupla, per esempio i mesi, prendiamo un altro esempio, quindi dopo la settimana voglio crearmi una tupla mesi che contenga i mesi, quindi 12 cellette di memoria, 12 posizioni dell'indice e vedete questo è un altro modo, cioè praticamente ho fatto così, ho fatto così e la stessa cosa il risultato finale, otterriamo una tupla da interrogare con l'indice specifico, quindi ogni cella avrà il suo valore, però è un modo diverso di scriverlo, scegliete voi cosa preferite, magari è più chiaro un elenco così riga su riga piuttosto che aver scritto tutto così di seguito, scegliete quello che preferite, io ho voluto mostrarvi le diverse sintassi riconosciute dal motore bash della shell, quindi vedete che i mesi invece che metterli a 1 a 1 in verticale li ho messi in orizzontale, quindi sempre indice 1 uguale a gennaio, spazio indice 2 uguale a febbraio eccetera 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 fino a dicembre, ancora una volta non ho usato le virgolette perché nei nomi dei mesi non ci sono spazi però già detto la regola, c'è ancora una terza possibilità che è quello di non indicare nulla come indice ma di semplicemente indicare i valori uno in fila all'altro a seconda di come li vogliamo nell'indice, vedete che ho creato una terza tupla chiamata valori uguale parentesi spazio, non è che questo spazio ho scelto di metterlo perché a me piace mettere lo spazio, ma è proprio la sintassi che richiede lo spazio se io facessi così non funzionerebbe, quindi gli esempi che trovate prendeteli come buoni perché così come sono scritti perché è la sintassi particolare della shell, bash che vuole così, quindi non è che sono spazi superflui ma servono, hanno un loro scopo ecco, la particolarità di questa ultima tipologia di definizione di una tupla è che l'indice quindi qui viene definito dalla bash automaticamente dietro l'indice, parte in realtà da 0 e non da 1, tenere presente solo quello se mai volete usare questa forma, ecco perché ho voluto caricare questa tupla chiamata valori partendo da la parola 0, 1, 2, 3, 4, in realtà sono 5 valori ma tenete presente che se non forzate voi l'indice così 1, 2, 3, 4 parte da 0, quindi per interrogare i valori, per recuperare i valori di questa tupla chiamata valori, per averlo 0 dovete fare valori di 0, valori di 1, terrete 1 eccetera eccetera, adesso lo vediamo con l'esempio qui sotto, perché? Perché abbiamo creato le tuple qua sopra e qui sotto vi mostro degli esempi di lettura ovviamente, quindi di recupero, un po' come con le variabili, usiamo il comando echo che già conosciamo, il comando echo dollaro per leggere la tupla questa volta, non la semplice variabile a una dimensione, una celletta, ma la tupla con le sue varie cellette, ecco quindi la tupla si può interrogare con il suo indice, quindi l'indice per andare a prendere quella specifica celletta, ecco che per esempio nella prima riga qui vado a recuperare il valore dell'indice 1, quindi della celletta 1 della settimana e io mi aspetto che mi torni poi lunedì perché è 1, eccolo qua, l'1, 1, rispettivamente il 5, il 5 è venerdì, mi aspetto che mi torni quindi lunedì e venerdì. Poi c'è una sintassi particolare che permette di ottenere quanti, di quanti valori è composta una tupla e vedete che ho messo un comando echo, quindi con una stringa descrittiva davanti, quindi tra le virgolette che abbiamo imparato a conoscere, quindi il numero di valore della tupla settimana è uguale a dollaro, cancelletto, vedete come fosse lo stesso simbolo dei commenti, però in questo caso ha tutto un altro significato, quindi cancelletto settimana parentesi quadra, asterisco che vuol dire tutto, quindi il cancelletto vuol dire tornami il numero del tutto, di tutta la tupla e quindi questo ci tornerà praticamente 7. L'asterisco spesso, penso che chi usa un computer lo sa, spesso viene usato come wild character, cioè come carattere per indicare tutto quello che trovi, anche nelle ricerche spesso è un carattere molto conosciuto per essere usato come sostituto di tutto, trova tutto quello che puoi trovare da lì in avanti con l'asterisco, quindi anche qui diciamo che l'asterisco funge un po' dal tutto, quindi della tupla settimana, indice asterisco vuol dire tutto, completa la tupla, quindi tutti e sette gli indici e il simbolino qui, la dash del cancelletto vuol dire tornami il numero, quindi è un conteggio praticamente. Rispetto a interrogare una variabile semplice, singola, come abbiamo visto nella lezione precedente, l'interrogazione di una tupla è molto simile, quindi c'è ecco, dollaro, il nome della tupla, naturalmente parentesi quadre, il suo indice, ma in più tutto ciò è contenuto in un paio di parentesi graffe, quindi vedete che nelle script bash si usano anche le parentesi rotonde, però molto più spesso si usano le parentesi quadre e addirittura graffe, quindi anche qui bisogna prendere atto che la sintassi è questa, cioè non c'è un motivo specifico per cui è così, è stato deciso che è così, quindi il comando eco è sempre lui, il dollaro non segue subito il nome della variabile perché è una tupla, quindi aperta parentesi graffa, il nome della tupla, l'indice che vogliamo, chiusa parentesi graffa, ecco, se vogliamo visualizzare a terminale tutto il contenuto di una tupla mettiamo, ecco vedete come qui io voglio tutto il contenuto della tupla mesi, quindi tutti i mesi, metto semplicemente di nuovo l'asterisco come indice, non un indice specifico, non metto 3 per ottenere marzo ma metto asterisco e lui mi farà vedere da gennaio fino a dicembre, vedete che la differenza rispetto al comando precedente dove io voglio il numero degli elementi contenuti nella tupla dove ho messo il cancelletto davanti, qui non metto il cancelletto davanti e quindi mi stampa a video, mi visualizza a video, quindi nel terminale, il contenuto e non la quantità di elementi, ma tutti gli elementi uno dietro l'altro. E poi ecco questa la particolarità che dicevo prima della tupla valori che non ha un indice specificato da noi, quindi parte da 0, vi volevo mostrare con un paio di echo, quindi di recupero di valori che parte appunto dall'indice 0 e non dall'indice 1, quindi qui mi aspetto che mi torni 0 e 1. eseguiamo questo script, eseguiamo questo script, quindi vado a recuperare il mio comando, questa volta è la parte 4, quindi script parte 4, faccio il mio enter e vediamo un po' che cosa mi ha tornato. Allora, ho fatto il clear per pulire il video, ripeto quello che ho detto dalla scorsa lezione, lo script bash va dall'alto verso il basso, quindi ha dapprima caricato le nostre tuple, quindi la settimana, i mesi, i valori e fin qui non vediamo nulla e poi il primo comando echo, cominciamo a vedere. Allora, il primo comando echo diceva voglio l'indice, la celletta 1 dell'indice 1 della settimana lunedì, in effetti ecco lunedì, il secondo comando echo vuole l'indice 5 della settimana che corrisponde a venerdì ed ecco qua venerdì messo lì visualizzato. Poi il terzo comando mi dice voglio il numero di valori diversi di celle che ci sono nella tupla settimana e vedete che mi torna 7 questo comando che abbiamo visto prima con la dash davanti. Poi voglio stampare tutto il contenuto della tupla mese, quindi con l'indice asterisco, echo, dollaro, parentesi graffa, tupla, quadra, asterisco, chiusa quadra, graffa ed ecco qua che vedete gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre, dicembre. Questa qui è tutta la tupla dei mesi stampata di fila. Poi in ultimo vedete la tupla valori per la quale non abbiamo noi specificatamente indicato un indice, quindi parte da 0, vedete il primo valore stampato è lo 0 con l'indice 0, il secondo con l'indice 1 e vedete che mi ritrovo la parola, la stringa 0 e la stringa 1, ecco qua, tutto qua. Ecco, le tuple sono molto importanti, altrettanto delle variabili perché anche queste danno vita al codice, ci permettono di creare anche degli automatismi nei codici. avendo un indice per il numero della settimana, se noi stiamo lavorando su dei numeri nel nostro script, per esempio, noi potremo accedere direttamente con il nostro numero in mano e ottenere in lettere stese il giorno corrispondente, uguale per i mesi. Se noi stiamo facendo uno script che ci fa ottenere il numero di mese, noi possiamo andare dentro dritti con l'indice 10 nella nostra tupla a mesi e ottenere in lettere ottobre, per esempio. vedete che incominciano a formarsi questi mattoncini per poi creare il nostro script finale o che soddisfi le nostre esigenze, anche con le tuple che sono molto comode, molto dinamiche. Un ultimo punto d'attenzione prima di concludere, non mettete il valore 0 davanti all'indice della tupla, perché lasciamo perdere i dettagli perché sono un po' complicati, però se voi mettete lo 0 davanti all'indice, magari siete tentati di farlo per esempio qui, riportiamoci sulla tupla dei mesi, vedete che 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, magari per allineare i valori, se caricate la tupla in questo modo, ma per allineare i valori vi viene la tentazione di metterci lo 0, 1, 0, 2, in modo da avere sempre le due posizioni nell'indice, più per estetica che per reale necessità. Ecco, a noi, diciamo, esseri umani, 0, 1 e 1 è uguale sempre 1. In realtà, per il nostro sistema Linux, 0, 1 viene interpretato con un'altra modalità numerica, che non è quella decimale nostra, ma quella ottale. Ecco, ho detto che è un po' complicato tecnicamente, potete andare sempre su Wikipedia a vedere la differenza tra ottale e decimale, eccetera, eccetera, però vi dico solo di lasciar perdere lo 0 davanti, perché automaticamente il motore bash con lo 0 davanti lo interpreta come ottale, non come decimale. Questo fa sì che in realtà l'indice 0, 1, 0, 2, eccetera, o indici più alti, non siano in realtà quelli che pensiamo. Ecco, perché se inizia a interpretare come ottale, per esempio, l'indice 0, 8 e 0, 9 vi daranno errore, perché nella modalità numerica ottale non sono previsti questi valori, quindi l'indice 0, 8 e 0, 9 vi darebbero errore, non vi vengono riconosciuti dallo script bash. Mentre se lasciate via lo 0, 8 e 9, avete visto che funzionano benissimo. Quindi, tralasciamo tutta la complicazione, voi avete anche questo testo se volete leggerlo a disposizione, avete Wikipedia a disposizione, però tralasciando ogni complicazione tecnica, l'unica cosa che dovete tenere presente è non completate un indice con degli 0 davanti, magari per estetica, per allineamento, che non serve e soprattutto da adito ad errori. Ecco, conclusa anche questa quarta lezione sulle tuple, che conclude un po' il discorso sulle variabili, quindi abbiamo visto nella lezione precedente variabili semplici, qui variabili un po' più complesse, però sempre di variabili si tratta, e con la sintassi particolare della bash, che è semplicemente da acquisire così com'è. Quindi, se volete, potete provare questi codici, questi script che io ho già preconfezionato, vedete com'è la sintassi, potete prenderli come modelli, fare delle vostre prove, e nel frattempo io chiudo questa lezione e vi aspetto alla prossima. Un saluto, ciao ciao! Ciao!